La miglior medicina quando per cause maggiori non puoi giocare e occupi il penultimo posto della classe, ti ritrovi 6 punti alla ripresa del torneo, è quella della vittoria doppia. I Folli passano in giro di 4 giorni a quota 12 punti raddoppiando quelli ottenuti con 4 gare da recuperare. Pronti e via, dopo soli 3 minuti di gioco questo tiro cross di Gertros non viene colto dal compagno Ferrari. Il sasso Marconi replica con questa iniziativa dalla distanza che richiama l'attenzione di portiere De Gori, classe 2001. I Folli tenta l'acuto da calcio piazzato con Tortori, ma Giannelli fa buona guardia sul proprio palo. Sul fine di tempo l'inerzia offensiva di Gigliotti viene stoppata così da Monti. Per il direttore di gara, alias Macialaccia di Terni, si tratta di simulazione di ammunizione per il numero 23 di casa. Squadre a riposo sullo 0-0. La ripresa segue la linea di prima frazione di gioco, ma questa volta le proteste sono a cura ospite. Da questa punizione innocente nasce un fallo di mano recriminato in area di rigore dei Folli. Da un'altra angolazione proviamo a misurare l'intervento o meno della difesa bianco-rossa. L'arbitro sorvola anche in questo caso. La reazione dei Galletti è imminente. È affidata al piede caldo di Gertens che da due passi spara alle stelle. Ma i bianco-rossi si fanno perdonare al minuto 78, quando da un'azione sulla sinistra nasce il traversone vincente per la spaccata di Gigliotti, che trova il pertugio giusto che vale i tre punti per i padroni di casa. Rivediamo la prudezza del classe 1991. Ma l'ultimo secondo, da una punizione di Ripai della Rocca, chiama al miracolo De Gori. L'estremo bianco-rosso, come si vede dall'altra angolazione, si supera, compiendo un intervento che vale i tre punti. E il secondo successo consecutivo per il team di Angelini, che si riprende la scena in un campionato maledetto o benedetto a seconda dei casi.